Il suo punto debole è la sua forza, cioè essere esploso a tal punto che, d'ora in avanti, gli allenatori avversari predisporranno delle trappole per lui. Diventa un giocatore da fermare a tutti i costi, quindi bisogna raddoppiare, triplicare a volte la marcatura, bisogna stringerlo un po' nell'angolo, però bisogna sacrificare più uomini per questo lavoro. E questo potrebbe complicargli la vita, anche perché il Napoli, adesso squadra dominante, si ritroverà sempre più squadre molto chiuse, molto coperte, molto preoccupate, e lui avrà meno spazi per galoppare nella prateria come va a fare. Gli si complicherà la vita dal punto di vista proprio del gioco, dal punto di vista tattico. Detto questo, è uno dei pochi uomini che salta sempre l'avversario, capito? Quindi tu non sai mai lui dove vuole andare. Cioè la capacità di saltare l'uomo sempre, con la doppia finta che inganna, con la sterzata da slalomista. Quella caratteristica lui ce l'ha e ce l'avrà sempre, secondo me, perché mi sembra anche un ragazzo molto serio, molto attento. Mi dicono negli allenamenti è straordinario, quindi io vedo un bel futuro per lui, bisogna fare i complimenti a chi l'ha scelto.